Salve a tutti, uno strumento inusuale, il crernetto piccolo Mb, che si vede poco in giro, si usa molto in orchestra, lo troviamo anche nelle bande, ha un suono abbastanza acuto e sicuramente non è adatto a questo genere di musica che vi farò ascoltare. Però per me lo strumento è un mezzo per poter comunicare, quindi non ci sono limiti, tutto quello che noi possiamo utilizzare per poter comunicare va bene, ecco, a voi spero sia di vostro gradimento, buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.